Ieri va della giornata, ma saremo un'eridata, con bravura io tal di, la mia tua parenti amici, tutti insieme in tecchia giù, per ascoltare un'estoriù te, con tizzo se mostri di, ogni dì si fa scossì, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, e non sta alla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà. Buongiorno, penso che ho dovuto imprestarmi per il piacere. Io hai dal sicuro, ho vieno a portare, sai, ho arrivi dal momento, ha c'è un scomento, no? È perché ho vieno di fare i biscotti. C'è i biscotti? Sì, ho vieno di fare i biscotti. Facciamo un gioco. Dai. Vi ho detto se è buon di chiatare i biscotti, ma che è il disegno? In 10 secondi. Sì, ho pronto, Cirillo. Via! Io ho vieno di chiatare. Brava! Wow, Mandy! Mandy! Oh, se sono rivasso, faceli di me? Io sono venuto a fare i biscotti. A chiase a me non mi era mai capitato di fare i biscotti, a forme di stelle, tra l'altro. Sicuro? Sì, ma qui, se sono, presentasi, io sono Daria. Mandy, io sono un mestre di cocco, sì? Mandy, e tu che sei? E io sei un coge dall'asilo. Mandy, io sono Daria. E io sono Mauri, l'aiutante. Oh, wow, l'assistante, sì, sì, sì. Ma c'è molto se scogli e non vedi i uus? Per dire la verità, i uus, i uvevi, ma io sono andati per strada. Mi sono sentata per ore. Non puoi scrodi. Ma sì, io hai dal Sigur, vieni dentro. Porino entrare. Ma sì, ma coventi all'unfor? Beh, sì. Allora, voglio hai il piano. Anni, anni, dentro. Bravissime, bravissime. Ma ciccio, pasticcio? Sicur, i frutti delle scuole d'infanzia, ma da questo non c'è? Le per gioia, ma in cucina si gioia anche, mica dove si mangia e si brucia i pignati, sai tu? Hai capito? Ma hai veduto che anche io, allora, è gioia col sono? Sì, bravvi, fiorellino. Ho preso il vostro in omidale. Sì, sì, ho giunto i frutti, fai paese anche. Beh, scomentino, mi fai se so faccio. Fermi sì, la lavar i mani, prima di cucinare, prima di mangiare, sempre lavar i mani. Lavar i mani ogni volta che fai se di mangiare, o vuoi? E come ho, sei pronta? Sì, sì, sono me, sono... Allora, come ho grumal e scufe? Oh, benissimo. Allora, prima il grumal. Il grumal per non sporchiarsi. Aspetta, Gabi, fiorellino, tendur. Il grumal per non sporchiarsi. Eh, sì. Sì, sì, ho giusto. Allora, dopo le scufe, faccio che bisogna sempre da conare i carri. Per non perdere? No, no, perché non coli in te i biscotti? Hai capito. Non puoi mica mangiare i biscotti che tu fasi come ho, qui c'è il tuo dento. No. Allora, aspetta, ora che provino. Ecco, possia alle dente anche il ricicchetto, ma benissimo. Sei pronta. Come ho, tu puoi là? Allora, adesso cominciamo. Cominciamo con la farina. Ho avuto tre taccis di farina. Ho avuto i pasali, tal. Ah, sì? Venti, sì. E dopo metti la fecola. Ah, la fecola. C'è com'entia le fecola, ma so, hai sempre domandato. Le fecola, va bene, partiene c'è il soffitto, c'è il biscotto, come si quei? Un'etace di fecola. Uno. E dopo metti niente il zuccar. Un'etace? Un'etace. Bene, sì. Ah, non com'entia che il cap è il palzuccar. Passi al? Non passa, non tu arrivi sa passare. Hai capito? Allora lo butti così. E dopo il volume. Un'etace di donut di lievit. Il levà per furla. Ah, ecco. Prego. Ah, giusto, giusto. Un'etace di donut. Giusto. E dopo vediamo di metti anche la resta, anche le picciole di sal, perché anche il sal è un dolce, o le picciole di sal, non sta male. Una picciole di sal. Anche molto. Anche molto. Ma un po' un po' di niente, sì. E poi mettiamo il jus. Tros. Tre yogurt. Tre? Un. Se tu vuoi, ti parto che hai già rosa. No, che hai rosa, che hai rosa, no, non lo vuoi. Un. Due. Ma c'è brava che tu sei. Di tu. Ha fatto anche chiesto i tuoi biscotti. Tu sei spuibrava di me di rompius, però. Io ho scogliuto sentarmi per l'ora per rompio. E dopo? E dopo io dico, si può smettere la spoglia, una buona spoglia. E se no si può dare... Ma... Cioè puoi di non fare i frutti che non puoi di mangiare la spoglia perché sono allergiche come questo io. Ah, ma allora tu puoi smettere un po' di uoli di olive dentro. Ho capito. Allora aspetta, mettere dentro. Mettere i uoli? C'è di tu? Sì, ma anche dei uoli. E... Di nome tu? Ah, e dopo... Dammi che ho messo via io, sennò c'è iudante so io, ok? Cosa lo so? Come vuoi di nebbiale grattare alla scucia? Dal narancio. C'è via il colore che ha l'arancio. Il narancio. Ah, le branancio. E dà un buon profumo. Sì, c'è buon profumo. Ma, Germano, perché si dobbia le scucia e non il strug? Allora, le scucia è a profumo e non fa diventare neri. Invece, circa le denti ha da sapore però ha la fase di liquidità della preparazione. Ah, hai capito. C'è di grattare solo la scucia. No, il blanco. Hai capito. Non me la fargiare. No, hai capito. Farci più blanco da amare. Hai capito. Dopo ciò è di fare. E dopo mettiamo anche il limone. Perché anche il limone ha la rifà la sua parte e ha il suo profumo. A che spunto si fa, Sial, Gabriella? Allora, come ho, che vi metto dentro tutti gli ingredienti per fare i biscotti e in una biele mescedade. e come ha fatto le biele? Allora, chi ha le biele balutte che ha il vignone? Chi ha le biele diretti che le biele è liberate. La biele che ha la naranze e il limone. Che si vede, è vero? Biele morbide. Come ho la fai usata? E poi, si comincia a fare un po' di biscotti. A me non mi vengono così morbide come le fasi in casa. Ecco, basta un ticotto perché se no ha il suo solo di farina. Ecco, la tiriamo per bene. E non è di essere né troppo grosse né troppo fine. Fine, sottile, non sai, dopo. Dopo ci sono i biscotti ma se grossi non sono bene, non c'è da iodi. e allora non gli facciamo insomma biei. Chiaro, c'è da ieri. dai un attirare anche tu perché se tu tiris tu al 20 ore non c'è no. Sei morbide che io che stai parlando. Ma non c'è tiri, tu c'è il ragazzo in atto lì. Allora, questo è doprà un mescol ma hai saputo che una volta si doprà anche al cat ripartirà le paste e se vede le volte si doprà ma ne scove anche osservano le bottiglie. Hai capito. Io le mamme le bottiglie usavano le mamme. Le bottiglie, sicuro? Le mani di scove mi correva da uri. Ah, allora, dato che tu sei salì e tu la tirare tant bene come ti doi a chi di fare una bianca stella? Perché non ho convinto di nessuno ma è che farina. E un stampino a forme di stella tu le metti sparsore le paste una manuta io insegno ai miei fruttucci tu le metti una manuta e con che altre fracche ben parzore in maniera che se la cabe brava che bene brava che bene brava che bene stai attenti se non è furfa tu è brava che tu stessi che da mie amiche io sai di un appartamento voglio cambiare i miei stili di un appartamento ma sicuro anche tu voglio scomandare con te no no tu vieni su con me oh vieni su tu vieni su che metti il mio ti mescoli con i miei fruttucci che si fanno tantissime di un appartamento allora ecco allora che pensavi di fare se è buona la pasta cruda siamo più buona che questa no no da mie amiche sai di lamettile allora come fare facciamo più bene che i biscotti che tu hai fatto io mettiamo un balinuto dorato un talmierci allora state attente che scotte non ti che dovevi spreparare altri santi e tu loro loro io ho seguito sì ma c'è come come mi capite per far fiesta per i frutti no ma poi ti ho anche il cerciaio oh c'è che scotte aspetta mi ho le calcine e tu Germano provo sai dicio l'entio che sono fatti a forme di nero sono buonissimi sarei tutti discorsi a forme di stelle buonissimi e c'è profumo mandi ciao mandi con voi sì il libro dal di Vualè Dula Coglieria sta prima di Sandra Fabris e Renata Gallio Edizioni L'Orto della Cultura chiamare la chiamare piccolo invece la mia mia più grande aveva i voi buoni e una buona puccia di stelle io sapevi c'è mod fa per chiarire c'è il musico se volessi tornarlo a lei domandaitelo in biblioteca o ci rilutes librarines ecco mo volessi imparare qualche peraule in diversi slenghi par furlant stelis par talian stelle par ingles stars par spagnol estrellas un bravo kogo alvarà di sicuro un puest in paradis se stu bondi fevela par furlant mande un tuo video simpatico in du la che tu non mandi su dediche un pensier un chiamson un barzalette c'è che tu vuole sin lenghe furlane mi raccomandi domande a cui che ti film e di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale mande a 3 3 3 7 2 0 2 vot un 4 oppura mamang caiut tvstar .com 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 Belle che ciamine sulla manditine, grosse colpuntine, vogliamo schiarire. La 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 la, la 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 la. Belle che ciamine sulla manditine, grosse colpuntine, vogliamo schiarire. Mamma! Mamma! Vigli, sassucce che mi è succedut, vuoi? Vuoi, a son passasa tucamite parte de me chiasute, ben tre personis. Un ha l'era Ghermano Pontoni, in art Ciccio Pasticcio, che ha fatto il cogo e ha un famoso insegnante che ha insegnato a mangiare bene. La seconda persona è l'era Gabriella Fior, in art Gabi Fiorellino, che ha fatto di mangiare la coga e le scuole d'infanzia di Muec e che ha fatto diversi laboratori ai frutti. La terza persona è ieri Maura Pontoni, brava editore che è la loro assistente e che gli aiude in tutti i loro laboratori. A son vignosa a domandarmi se avevi parca tre usi per fare stelis di biscotti. Ma c'è molto cogos che non hanno i usi. E mi han domandato anche se potevi prestare il fuor perché il loro non funzionava. Io avevo tant' gusto di preparare stelis di biscotti a chiasi a me con veri cogos. Come voglio mangiarmi i biscotti a forme di stelle? Mamà, frus! Ecco ma, frus! Clamai d'ongi ai vostri genitori, cale al parlor. Qualchi piccoli consigli per crescere con più i lenghi. Non c'è un momento in cui si può dire che sia troppo tardi per diventare bilingui. Certo, cominciare presto ha dei vantaggi perché il cervello del bambino è più flessibile, è più in grado di assorbire diversi sistemi linguistici. Il mondo è pieno però anche di bilingui cosiddetti tardivi che imparano una lingua da adulti e raggiungono notevoli livelli di competenza. La ricerca, fra cui la nostra ricerca, ha dimostrato che alcuni dei vantaggi cognitivi che sono stati riscontrati nei bambini bilingui si riscontrano anche negli adulti bilingui, quindi cosiddetti bilingui tardivi, che hanno raggiunto un ottimo livello di competenza in una seconda lingua. believe in Gia Campesina Ieri va della giornata rasarim un'eridata cum bravure io taldii, clami a tu pari i camis tutti insiem in fecchiazzutte, scoltarim un estoriute Con ti so se mostri di ogni giorno si fa così Tutto il bielo franculo non sta a piedi di papà Non sta a la lontan lontan sta a fare piaccia la mamà Tutto il bielo franculo non sta a piedi di papà Non sta a la lontan lontan sta a fare piaccia la mamà Non sta a la lontan lontan sta a fare piaccia la mamà